abbiamo beccato proprio all'uscita così della di questa gara Paolo Zuvadelli come va come è andata buongiorno a tutti e beh posso guardate il mio sorriso perché sono contento ho fatto una buona gara questa è una cavalla di otto anni un po le sue prime gare importanti l'ha fatta bene in the name da che ronte c'è qua anche l'allevatore e proprietario che è venuto a vederla oggi quindi doppia felicità parole di elogio anche tu per questo concorso organizzato qui alle scuderie leon d'oro intanto sono contento che abbiamo una tappa in lombardia dei per i cavalli giovani e con questa giunta di gare di un certo livello per i cavalieri professionisti le strutture sicuramente sono all'altezza di poter organizzare un concorso di questo tipo quindi che ben venga sono molto contento e zuva allora grande sei tutti noi grazie a tutti voi ciao